Io ero minorenne quando facevo queste cose, mi sono messo in pericolo, ho rischiato, sì, non c'è una cosa che io ho preso nella vita se non rischiando qualcosa, anche le mie dita, le mie ossa, la mia pelle, sono esperienze che hanno costruito la mia persona. Sono arrivato a quasi 30 anni. Cioè mettere un airbag evita le persone di fare un percorso. Evita le persone di fare un percorso. Qualunque sia, c'è un diffuso e sempre più diffuso bisogno di garantire la sopravvivenza a ogni costo per tutti. Non sono d'accordo e non sono neanche d'accordo sulla atraumaticità ad ogni costo per tutti i ragazzini. Non li porta su una strada migliore il non avere traumi. Tanto prima o poi gli arriva, se non si è fatto gli anticorpi è molto peggio. Secondo me sì, secondo me le cose stanno così. Non sono d'accordo con il proibire alle persone di farsi del male, di vivere il trauma.